Un problema, dobbiamo tornare indietro. Perché? La bambina non sta bene, ha avuto un attacco d'asma. Poverina, mi dispiace. Se volete veniamo anche noi. No, no, non vi preoccupate. Tranquilli. No, non è giusto rovinare la vacanza. Non vi preoccupate, ci sentiamo stasera. Ok, ci chiami. Sì, certo. Ciao. Questa storia ora deve finire. Ora dico basta. Io chiamo i carabinieri perché lui non ha nessun diritto di fare tutto quello che sta facendo. È solo uno psicopatico che si sta prendendo gioco di noi. Ti vuoi accalmare ora, per favore? Ma vedi che tu hai solo paura. Dai, fai tutto quello che ti dice. Metti le sue fotografie dappertutto. E poi cosa ti chiederà? Si vorrà trasferire in casa nostra? Ok, facciamolo venire in casa nostra. Uniamo le nostre famiglie. Sei un idiota. Ora stai esagerando. Ah, pazzesco. Sì, esagerando. È che io non ce la faccio più. È assurdo, non si vive più. Ora prendi il telefono e ci parli da uomo a uomo, Cristian. Ma non ho il suo numero. Fai il mio numero e ti risponderà lui. Senti, abbiamo detto lunedì. È lunedì c'è tutto.